Sono stati presentati questa mattina nella sala giunta del comune di Pordenone i punti salienti del PUNS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, focalizzato in particolare sulla ciclabilità, sulla moderazione del traffico, sulla riqualificazione di alcuni ambiti urbani e sulla fluidificazione del traffico sulla statale pontebana. L'assessore alla viabilità Bruno Zille. Le linee fondamentali del piano riguardano soprattutto per quanto riguarda la mobilità sostenibile e come tale l'intervento per quanto riguarda sia la moderazione del traffico, sia per quanto riguarda la sicurezza statale, sia per quanto riguarda i percorsi casa-scuola. Sono una serie di interventi che vengono previsti all'interno del piano con la realizzazione di zone 30, poi tutta una serie di interventi per quanto riguarda la sicurezza e la fluidificazione, i nodi critici, sia nel ring e poi soprattutto per spostare quote di traffico che attualmente girano intorno al ring, si tratta di intervenire e di fluidificare tutta la pontebana. In modo tale da rendere più conveniente chi si muove all'interno da nord a sud della città spostarsi sulla pontebana e lì bisogna fluidificarlo, tant'è vero questo piano prevede tutta una serie di interventi prioritari proprio per andare ad eliminare i semaferi, quindi con una maggior fluidificazione c'è la possibilità di spostare. L'altro tema importante è quello di aumentare l'uso della bicicletta e quindi ci saranno tutta una serie di interventi sulla mobilità ciclabile e su tutto il sistema del biciplan e sul miglioramento delle stesse piste ciclabili al fine di rendere i movimenti in sicurezza e quindi più appetibili per tutti.